Ecco a voi, Espresso in due minuti. Trieste è ricca di scuole di formazione altamente specializzate che attirano frequentatori da tutto il resto del mondo ed eventi internazionali di settore, tra cui il Trieste Espresso Expo e il Trieste Coffee Experts, che riuniscono i massimi esperti ed esponenti del mondo caffeicolo. I caffè storici della città, come l'antico Caffè San Marco, il Caffè degli Specchi e il Caffè Tomaseo, sono stati luoghi di incontro culturali per celebri scrittori. Questi caffè storici triestini uniscono memoria e modernità, dove studenti, giovani cittadini e anziani frequentano questi luoghi di cultura, sentendosi parte del contesto storico tipico cittadino, relativo ad oltre tre secoli di eredità storica e letteraria. Consumare il caffè per i triestini è una prassi quotidiana, infatti nella città vige una vera e propria nomenclatura locale. Ogni bevanda cambia nella preparazione e nel modo in cui viene servita. E i modi sono davvero tanti, tanto da avere appunto un nome specifico solamente a qui a Trieste. L'affezione di Trieste per il caffè, le sommature dei nostri cittadini, la multiculturalità tipica di una città di confine e le sue usanze mantengono via una tradizione secolare.